il caffè al bancone la possibilità di poter servire ai tavoli qualcosa è cambiato da oggi un miglioramento certamente per la vostra attività certo già stamattina vengono tanta gente sono contento a prendersi il caffè dentro il bar perché questa cosa che se dovevano prendere fuori era molto pesante gente non veniva più ma stamattina già abbiamo incrementato un poco ecco ci sono dei segnali positivi comunque che voi state recependo in questo momento anche sulla base delle prime ore dell'attività si stanno cominciando già qualcosina a vedersi qualcosa però non tanto si trova in una zona particolare di sciacca proprio nel cuore della città in piazza maniano rossi c'è qualcosa che si può fare anche a livello locale in vista delle festività natalizie per migliorare un po la situazione ma speriamo che organizzano qualcosa anche questi giochi per i bambini o musica sempre sempre con l'istanziamento si potrebbe fare benissimo perché era un pochettino di anche al centro storico di creare un pochettino di fare venire un po di gente per ora perché è morto ultimamente e per quanto riguarda invece la situazione relativa al parcheggio di piazza rossi che proprio qui davanti a lei vediamo poche macchine parcheggiate mezzogiorno di una giornata feriale in altri periodi non è mai stato così vero è che c'è la pandemia però vediamo poche macchine io ho già parlato con l'assessore qualcosa la stanno facendo già ma già dall'anno nove in poi ci saranno delle novità col parcheggio ma quale sarebbe a suo parere la vera il vero intervento che bisognerebbe fare quello grado di risolvere il problema gli abbonamenti di calare un po gli abbonamenti di scendere i prezzi così tutti si tutte queste persone sia gli abitanti al centro storico che abito in questa zona e le persone che lavorano nelle attività commerciali si possono comprare un abbonamento al mese rispetto a quello che minoranza va quanto dovrebbe essere il costo ma si sta discutendo su questo sulle 30 è qualcosa si sta discutendo ma c'è l'assessore che già sta facendo qualcosa per l'anno nuovo